Sono testimonia della casa dei risvegli, seguitemi e vi spiegheremo il coma e il perché. Si crede sempre che chi produce, chi c'è, chi risponde a un telefono sia presente, chi momentaneamente non c'è o in coma sia una persona già scomparsa. Io credo che esistano delle vite taciute nel periodo del coma che possono riaprirsi. Vorrei ridare valore anche a questo concetto. Dubbiamente la notte può essere ricordata dal coma, il coma può ricordare la notte, ma a mio modesto parere che peraltro condivido io non credo che il coma sia notte. Io credo che si collochi lì anche il bisogno di scienza e di coscienza, il bisogno di sapere e di sapere ancora su cos'è il coma, di non prendersi paura dei vivi, di non prendersi paura degli apparentemente non vivi per poter arrivare ad essere sempre più vivi. Credo che questo sia il concetto e me ne beo come faceva una pecora.